Ecco, è iniziato proprio adesso l'esibizione dei nostri ragazzi con la Valle a Terno Passa, con la divisa gialla, la Valle a Terno Passa, i nostri stanno con la tuta nero-azzurra. L'altro gruppo di ragazzi di Mistri, Gabriele, si trova nel pallone, si stanno esibendo su un'altra struttura qua di Bucchianico. Ci troviamo qua al palazzetto dello sport di Bucchianico per il sedicesimo raduno regionale dei piccoli amici primi calci. La Vizio Scassi-Frentano è rappresentata da due categorie, primi calci e piccoli amici. Come mister non c'è Billi ma c'è Nicola di Tamboli, mentre al pallone c'è mister Gabriele. La Vizio Scassi-Frentano è rappresentata da due categorie, primi calci e piccoli amici primi calci e piccoli amici. 1-0 per la Vizio Scassi-Frentano. Sarà del nostro portiere.